Findus presenta La Campagna con Gran Minestrone 6 Minuti. Che profumino! È minestrone! Mi ricorda quando abitavo in campagna? Avevi una casa in campagna? Sì, da piccolo. C'era un grande orto pieno di verdure. Ma pieno come questo minestrone? Sì, è buono, vero? Ha un gusto freschissimo. Ottimo! E poi si prepara in 6 minuti. Vedi? Noi in campagna, tra semine e raccolto, aspettavamo un sacco di tempo per un minestrone. Ed era buono? Sì, ma questo è pure meglio. Oh, non dirlo alla nonna, eh? Findus, il sapore della vita. Grazie a tutti.